Gigi a tutti ragazzi sono Alien e oggi sono qui per mostrarvi alcune nuove informazioni venute fuori dall'ennesimo articolo apparsa su Game Informer Ora non ho il permesso di mostrare il video, mi limiterò a qualche screenshot dove vi illustrerò velocemente le novità principali Se volete vedere il video completo invece trovate il link in descrizione Iniziamo con questo screenshot, comunque abbiamo due nuovi pezzi esotici, alla sinistra rispettivamente un elmo per cacciatore e alla destra un'armatura torace per lo stregone Non so dirvi quali perche abbiano questi pezzi ma nel video completo si nota l'elmo del cacciatore con una specie di fiamma all'interno del casco, una fiamma da vuoto direi Mentre il torace dello stregone brilla di energia, davvero effetti notevoli, almeno esteticamente, animati rendono meglio, credetemi Abbiamo poi quello che forse potrebbe essere il fucile a pompa del nuovo ride, beh niente da dire, la skin dell'arma è davvero notevole, sembra avere danni solari E anche qui non ho informazioni precise a riguardo, i perk non sono ancora noti Si suppone sia del nuovo ride, magari potrebbe anche non esserlo, ma l'aspetto sicuramente mi inquieta nel vero senso della parola, ovviamente positivo Altre notizie invece venute fuori, per la modalità rift, nuova modalità crogiolo, una volta raccolta la scintilla si avrà poco più di un minuto per segnare il punto nella base avversaria Se non lo si farà, la scintilla stessa esploderà provocando la morte di chi sta portando la scintilla Questo eviterà che un team possa semplicemente rubare la scintilla e camperare, amen Per la modalità pandemonio, ovvero la modalità scontro con le super che si rigenerano velocemente Ci vorranno circa 45 secondi massimo per caricare una super senza fare niente Se invece chiaramente si esegue kill, si eseguono delle kill, ma chiaramente si caricheranno in meno E circa 5 secondi in totale per caricare una granata Insomma, modalità bordello nel vero senso della parola, non vedo l'ora di giocarci Sono le mie modalità, zero tattica, solo schiaffi in faccia senza un perché La modalità eliminazione, quella delle prove di osiride, sarà invece presente quando le prove di osiride stesse non saranno attive E le nuove modalità zone control, mayhem e rift saranno a rotazione, quindi non saranno sempre presenti durante la settimana Non sono purtroppo previsti aggiornamenti riguardo una delle playlist sulle quali puntavo tantissimo Cioè armi unite, quelle con i mezzi per intenderci Ma sono sicuro che Bungie metterà a posto una modalità che secondo me in tanti hanno sottovalutato E che ricordo in beta mi ha fatto divertire come nient'altro Beta e alfa, aggiungerei Ultima notizia che personalmente accolgo benissimo Il blink, ovvero il teletrasporto, quindi quello degli stregoni e dei cacciatori Sarà bilanciato, non sarà più così fastidioso come lo è adesso con i soliti trucchetti che tutti conosciamo Amen, il crogiolo tornerà, si spera a brillare come è più di prima Visto che gli automatici torneranno ad essere importanti, armi come la culio o i pompa che tutti ben conosciamo Saranno bilanciati così da mettere fine all'epoca più oscura del pvp di Destiny E sapete bene come la penso a ricordo, no? Bene, prima di lasciarvi vi ricordo che domani sera alle 20 su Twitch Il link lo trovate in descrizione Bungie trasmetterà lo streaming su Destiny 2.0 Dove si parlerà un po' delle nuove meccaniche del gioco Io tanto per cambiare cercherò di informarvi a riguardo quanto più presto possibile Anche a costo di pubblicare la notte, mi conoscete ormai Video veloce, notizia flash, hype in crescita Sarà una settimana intensa questa, credete a me Bene, è tutto per ora, grazie per essere stati in mia compagnia Alien vi saluta, love and peace That came from the moon